Non sono ancora conclusi i lavori dei cancelli che dovranno chiudere in alcune ore della giornata la Galleria Valtiberina che vedete alle mie spalle. Siamo in zona Campodimarte, nella città di Arezzo, una delle zone più calde dal punto di vista dell'ordine pubblico e del degrado. Le voci dei cittadini sono contrastanti su chi decide, anche come commerciante, come il negozio che vedete qui alla mia destra, di rimanere in questa zona. E chi invece dice che sia come cittadini che come operatori è quasi impossibile rimanerci. Su una cosa sono tutti più o meno d'accordo, il problema di questa zona, il problema principale è lo spaccio. In una grata, qui poco lontano, abbiamo trovato centinaia di siringhe. Siamo a Campodimarte, lei ha appena fatto la spesa, come si vive in questa zona? Molto male, perché non si può venire se non accompagnati, non si ha la sicurezza di lasciare anche l'auto per 5 minuti. È un pericolo anche attraversare dalla macchina per entrare in farmacia, è sempre pieno di una migliaia di stranieri qui fuori. Non distingue neanche le nazionalità perché entro talmente veloce che è controllo prima di scendere dalla macchina che ci sia sempre il vigilantes della farmacia, perché è veramente una zona impossibile. Giardini, qualsiasi spazio è occupato da loro, noi non siamo più padroni dei nostri spazi. Si resiste, noi resistiamo, siamo felici di stare anche qui. A prescindere da tutto c'è bella gente, siamo felici di rimanere qui. La chiusura di questo cancello, quando saranno ultimati i lavori, per voi sarà motivo di sicurezza? Mi auguro di sì, perché la sicurezza, io che sono una dipendente per me è fondamentale, non è facile comunque da questo punto di vista. A volte ci sono situazioni che non garantiscono una grandissima sicurezza, quindi mi auguro che questo cancello vada a migliorare la nostra situazione, perché lavorare anche qui da sole non è facile, quindi mi auguro che sia un beneficio per questa posizione in cui siamo anche noi.